E' stata avviata su scala nazionale dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute una campagna di controlli finalizzata alla verifica delle principali attività produttive di alimenti maggiormente esposti al rischio di contaminazione dal batterio della listeria. La scelta è spiegata in una nota stampa dell'Arma dei Carabinieri e dovuta ai gravi casi di intossicazione che sono stati di recente registrati e che hanno interessato prodotti alimentari quali bustel, crudi e tramezzini o sandwich con farciture non sottoposte a cottura. I controlli hanno interessato tutta la filiera, dall'approvvigionamento alla conservazione della materia prima, alla trasformazione, confezionamento e alla distribuzione sino al consumatore finale. In Basilicata i controlli sono stati affidati al nucleo antisofisticazione e sanità INAS di potenza competenti per l'intero territorio regionale, i quali hanno avviato una capillare azione d'indagine presso le principali attività produttive della piccola, media e grande distribuzione. L'azione dei militari dell'Arma è stata focalizzata prevalentemente alle aziende che operano nel settore dei prodotti a base di carne cruda o a ridotta cottura come macellerie, salumerie, supermercati, salumifici e ancora a latterie, caseifici o rosticcerie nonché ai distributori automatici di alimenti. La buona notizia per tutti i lucani è che non sono emerse situazioni di contaminazione degli alimenti dall'isteria. Sono stati rilevati però solo alcune violazioni alle normative igienico-sanitarie di natura amministrativa che comunque hanno sottolineato INAS non hanno alcuna ricaduta immediata e diretta sulla salute pubblica.